Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del Tg6. In primo piano c'è la cronaca giudiziaria. Si è aperta questa mattina la prima udienza del processo per il crack di Carichieti, un fallimento che potrebbe aggirarsi attorno agli 800 milioni di euro in servizio. Si è svolta questa mattina l'udienza che dovrebbe portare alla dichiarazione di fallimento della ex Carichieti. Nel dettaglio l'obiettivo ruota intorno alla decisione di insolvenza per il vecchio istituto di credito e sul tavolo sono state presentate tutte le carte finora coperte da riservo. Davanti al giudice delegato Nicola Valletta si sono seduti, l'attuale amministratore di Nuova Carichieti, Salvatore Immordino, e il commissario liquidatore Massimo Bigerna. Ad una prima stima non confermata si contano più di 800 milioni di deficit. Sotto questo profilo ci sta pensando lo Stato perché ha approvato questo decreto che prevede il rimborso, se non totalmente, ma in buona parte delle obbligazioni subordinate. Diciamo che questa è l'unica soluzione possibile perché la procedura della Carichieti, come dicevo prima, non ha assolutamente disponibilità, non ha assolutamente niente all'attivo e quindi non sarebbe in grado di procedere a nessun rimborso. Per le altre banche questo già è stato fatto e speriamo che anche il Tribunale di Chieti proceda abbastanza velocemente in questo accertamento, anche perché i tempi sono importanti. Al centro dell'interesse resta il destino dei correntisti che hanno perso tutti i loro risparmi. Se verrà confermata la dichiarazione di Stato di insolvenza, seguirà l'apertura del fascicolo per bancarotta fraudolenta da parte della Procura di Chieti e da qui anche la questione della irresponsabilità degli ex amministratori dell'Istituto di Credito. Poi si apriranno tutte le azioni civili e penali, tese ad accertare quali siano state le vere cause di questo dissesto e naturalmente addossare le responsabilità a coloro che le hanno determinate. Ed ora l'udienza per il processo Morosini. Le procedure seguite sul campo da gioco per soccorrere Pier Mario Morosini hanno evidenziato una condotta attiva volta a salvare la vita del giocatore, ma sono risultate non conformi alle linee guida internazionali con riferimento al mancato uso del defibrillatore, in questi casi indispensabile, e alle modalità di rianimazione polmonare apparse non sufficientemente corrette. Così davanti al Tribunale monocratico di Pescara ha parlato l'anatomo patologo Cristian Dovidio, perito della Procura, che eseguì l'autopsia sul calciatore del Livorno, morto il 14 aprile 2012 sul manto erboso dello stadio adriatico di Pescara durante la partita di Serie B proprio tra Livorno e Pescara. E poi ancora il patto per lo sviluppo e per il lavoro proposto dal Governo regionale è stato presentato alle parti sociali questa mattina in Regione a Pescara. All'incontro hanno partecipato i segretari regionali di CGL, CISL, UGL, i presidenti regionali di Confapi, CIA, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria. Sono 27 i punti contenuti nella bozza di patto, mentre sono 4 i macrointerventi che qualificano l'azione di governo, impresa, lavoro e sviluppo, start-up, istruzione, ricerca e formazione sociale ed infine un protocollo di intesa sulla fiscalità. Nel corso dell'incontro si è discusso anche del Masterplan, il cui schema è stato riproposto anche nel patto per lo sviluppo. La data della firma del Masterplan, ha detto il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, dipenderà dall'agenda politica del presidente Renzi. Il documento è chiuso e finanziato, ha continuato D'Alfonso, che ha ricordato come l'Abruzzo tra Masterplan, Porfeser, FSE, Edilizia Sanitaria e PSR avrà a disposizione una mole di risorse pari a circa 3 miliardi di euro. E la senatrice 5 Stelle, Enza Blundo, annuncia interrogazioni al Ministero per conoscere la compatibilità ambientale delle opere contenute nel Masterplan. Grillini e movimenti civici all'attacco del Masterplan, il megapiano di opere pubbliche annunciato dal presidente D'Alfonso da decine di milioni di euro. La senatrice Penta, stellata Enza Blundo, annuncia interrogazioni al Ministero per valutare sia la compatibilità ambientale delle infrastrutture sia l'effettivo ritorno costi-benefici per il territorio abruzzese. Sicuramente chiederemo al Ministro di attenzionare quello che sta accadendo nella nostra regione perché continuano a prevedere delle opere impattanti di grande rilevanza senza però considerare innanzitutto il tipo delle indagini che devono essere fatte ovvero la VAS e quindi devono essere valutate dal punto di vista di una collocazione nel territorio e poi senza valutare neppure costi-benefici, senza valutare un piano strategico d'insieme e quello che sarebbero le ricadute ma la reale possibilità di portarle a termine. Da Roma all'emiciclo dove la senatrice annuncia un'azione investigativa del gruppo consigliare dei Cinque Stelle. Abbiamo già fatto l'incontro con i consiglieri e per quanto riguarda la loro peculiarità, il loro ruolo chiederanno l'effettivo ritorno in consiglio proprio perché ci siano questi approfondimenti. A Rigopiano nel comune di Farindola questa mattina si è tenuto un incontro con i presidenti delle province di Pescara, L'Aquila e Teramo, il presidente della regione D'Alfonso e i sindaci dei comuni di Farindola, Carpineto della Nora, Ofena, Castel del Monte, Villa Santa Lucia, Castelli e Villa Celiera. L'obiettivo è stato quello di condividere e formalizzare l'avvio di due protocolli d'intesa tesi a valorizzare due aree montane di interesse naturalistico e turistico. L'area Farindola, Castelli e Castel del Monte all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga e l'area del Voltigno. Dio ci ha dato delle bellezze straordinarie tipo queste terre alte, la montagna che unisce Abruzzo al suo interno le province di Pescara, di Teramo e dell'Aquila. Noi abbiamo soltanto il dovere, il bisogno di rendere questi luoghi raggiungibili nel pieno rispetto della natura e delle bellezze della natura. Attraverso questo investimento noi finalmente riempiamo un vuoto di comodità e di sicurezza infrastrutturale che poi dovrà dare luogo all'espressione di questa straordinaria potenza. Attraverso questa montagna ed altri abruzzesi noi riusciamo finalmente a collocare turisticamente l'Abruzzo. Ci sono 60 milioni di pensionati americani che guardano con interesse l'Abruzzo ma anche tant'altra potenziale domanda dell'Europa. Noi dobbiamo superare il rapporto tra desiderio di venire e realtà della venuta. Investire sulle infrastrutture, sulla piena conoscibilità del prodotto Abruzzo significa anche consentire che l'Abruzzo si trasformi in maniera definitiva in una destinazione. Il ricorso d'urgenza presentato al TAR dalla VECO di Martinsicuro ha portato alla ripresa dell'attività della fonderia. Nonostante questa preoccupazione è stata espressa questa mattina dalla FIOM CGL e dalla CISL poiché manca ancora l'autorizzazione edilizia e ovviamente il prossimo ostacolo da superare l'udienza dell'11 maggio. Accolto dai giudici ricorso d'urgenza ha ripreso oggi l'attività dell'AVECO di Martinsicuro. In attesa del giudizio nella sede collegiale il presidente Antonio Amicuzzi ha accolto l'istanza di adozione di misure cautelari monocratiche ritenendo che sussistono le ragioni di estrema gravità e urgenza tali da consentire la dilazione fino alla prossima Camera di Consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare prevista per l'11 maggio. In attesa del giudizio nella sede collegiale la fonderia, ferma a causa di una determina dirigenziale della regione che ha bloccato la produzione, ha ripreso l'attività ma è ancora in attesa dell'autorizzazione edilizia. C'è un'azienda che investe, sta facendo degli investimenti per ridurre l'impatto ambientale così come è richiesto dall'AIA ma dall'altra parte c'è una burocrazia che impedisce questi investimenti perché se da una parte la regione chiede che vengano rispettate le prescrizioni dell'AIA dall'altra sembrerebbe la sovrintendenza ai beni culturali non rilascia i permessi per poter costruire e quindi per poter rispettare a pieno quelle che sono state le prescrizioni dell'AIA. Noi ci auguriamo che l'11 maggio venga definitivamente accolto il ricorso al TAR ma altrettanto e ancora di più ci auguriamo che più presto arrivino le concessioni edilizia per poter far sì che l'azienda in maniera tranquilla possa riprendere definitivamente la produzione. La lotta dei lavoratori comunque ha consentito già a gennaio di riprendere la produzione oggi vogliamo che quella coproduzione rimanga perché il nostro territorio non può permettersi neanche la perdita di un posto di lavoro. La CISL di Teramo interviene nuovamente sul futuro dei 50 lavoratori della Maccaferri di Castilenti nonostante le promesse fatte dalla regione ad oggi nessuno è intervenuto. Chiusa dal primo di gennaio la Maccaferri con le promesse da parte della regione di un intervento ancora ad oggi nessun interesse quindi non si sa ancora il futuro dei 50 lavoratori. La Maccaferri è caduta nel dimenticatoio proprio totale di tutto e di tutti. Hanno lasciato in mezzo alla strada pare di famiglia e scese il sipario e nessuno ne parla più. All'epoca si parlava, abbiamo fatto dei tavoli anche in regione dove c'erano potenziali acquirenti addirittura il sindaco di Castilenti si impegnò e disse che aveva trovato tre compratori magari per riconvertire pure l'azienda. Non se ne è saputo più niente, non si è mosso più niente e di fatti Castilenti è rimasto il deserto che è e continuerà a peggiorare secondo me. Cosa farete ora? Noi cercheremo di riaccendere l'attenzione sullo sito di Castilenti. Sappiamo già che la Maccaferri non produrrà più a Castilenti perché di fatto ha smontato tutti gli impianti. Il problema è un altro, il problema è riconvertire questo capandone che ha abbandonato e magari cercare di creare nuovi posti di lavoro e qualcuno si interessa a far sì che porti della produzione e del lavoro a Castilenti. Proprio ieri era il primo maggio e a me veniva proprio in mente questi lavoratori perché il primo maggio degli ultimi non ne ha parlato nessuno. Nel prossimo servizio parliamo del piano delle opere pubbliche triennale al comune di Pescara. Piano triennale sulle opere pubbliche e bilancio, questi temi caldi che nei prossimi giorni terranno impegnati sui banchi maggioranza e opposizione del comune di Pescara. Un bilancio che come termine ultimo prevedeva il 30 aprile ma che, come spiega il sindaco Alessandrini, richiederà una proroga nei tempi senza contare le opposizioni che già vantano qualche migliaio di emendamento sul piatto. E' cominciato da qualche giorno il Consiglio Comunale, una sessione ampia in cui ci sono stati anche altri argomenti trattati, il documento unico di programmazione, il piano delle alienazioni immobiliari. Il presidente dell'Anci Fassino ha scritto al ministro Alfano per un allungamento dei termini in quanto molti comuni hanno difficoltà a rispettare questa scadenza. Noi lo diciamo anche con un certo orgoglio, Pescara è sempre stata puntuale da questo punto di vista e non è un dato scontato. Secondo il centrodestra il piano triennale è la base sulla quale muovere i prossimi passi, contando lo stato di deterioramento che già da tempo è stato denunciato anche dai cittadini. Noi abbiamo proposto una serie di emendamenti credo migliorativi perché riteniamo che questa città abbia bisogno di molta, tantissima manutenzione ordinaria. Ci sono tante vie della città prive di segnaletica orizzontale e verticale già da molti mesi. Ci sono buche in tutte le strade principali, non solo periferiche della città. Per il bilancio abbiamo intenzione invece di migliorare alcune poste che risultano vuote dalla previsione di bilancio. Pensiamo al sociale. Per il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Terramo, Fabio Berardini, il bilancio di previsione approvato dalla Giunta è un bilancio che azzera i fondi destinati alla cultura, mentre per il consigliere di maggioranza di Sabatino Martina è un bilancio che nasce con un macroscopico vizio politico. Bilancio di previsione approvato dalla Giunta, non concordato da alcuni, adesso arriverà in consiglio comunale. Sì esatto, questo è il bilancio dell'azzeramento ai fondi alla cultura. Quindi noi pensiamo anche che ci debba essere un azzeramento dello stipendio dell'assessore Luca Antonica. A questo punto diventa ancora più inutile. Ovviamente non è stato concertato con alcuni esponenti della maggioranza, alcuni dissidenti. Noi speriamo che se rimane un briciolo di onestà intellettuale a questi dissidenti, dovrebbero votare contro questo bilancio che è solo fatto di mosse di facciata, mosse politiche. Nasconde diversi tagli sia alla cultura e sia alle manutenzioni. Vogliono ulteriormente indebitare il comune allungando due mutui per rifare gli asfalti. Ovviamente dichiarando apertamente che non hanno fatto i tagli che dovevano in passato. E quindi adesso sono arrivati a questo punto a dover indebitare ulteriormente il comune per recuperare alcuni soldi che sono stati sprecati in precedenza. Per Alfonso Di Sabatino Martina, del gruppo civico Teramo Soprattutto, il bilancio di previsione del comune nasce con un macroscopico vizio politico. Secondo l'ex vice sindaco, che nella passata consigliatura aveva proprio la delega alle finanze, l'adozione del documento contabile da parte della Giunta avrebbe dovuto seguire e non precedere l'imminente chiarimento interno alla conizione, da cui dipende la sopravvivenza dell'amministrazione. Dopo l'aumento del 20% della Tari, i consiglieri di opposizione al comune dell'Aquila annunciano battaglia e i salviniani promuovono la raccolta firme per ottenere lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. È un bilancio lacrime e sangue quello che arriverà nella prossima settimana in Consiglio Comunale. Tutta colpa, sostengono Cialente e i suoi, dei mancati trasferimenti da Roma, dei milioni necessari per coprire le minori entrate legate al post-sisma. In attesa dello strumento finanziario, la maggioranza ha già deliberato un aumento del 20% della Tari, le tasse su rifiuti, un atto inaccettabile per i salviniani che hanno promosso una raccolta firma per mettere in minoranza il Sindaco e i suoi ed arrivare allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Quello che si è verificato è veramente indecente. Ormai questo comune è un comune dove c'è la tassazione altissima. Ogni anno sono ormai tre anni che aumentano continuamente. Non solo a livello nazionale il PD aumenta le tasse e le riverbera sui livelli locali, ma questa amministrazione continua su questa strada. Per adesso hanno fatto solo, e dobbiamo ringraziarli perché è così, ha detto il Sindaco, che c'è stato un aumento del 20%, ma il rischio è che l'aumento arrivi al 50%. È inaccettabile che ci sia un bilancio ad oggi, lacrime e sangue, e molto probabilmente non si sa quando verrà approvato e come verrà approvato, se verranno a livello ancora ulteriormente i servizi. Noi riteniamo che l'unica strada sia quella di sciogliere questa amministrazione, di sciogliere il Consiglio Comunale. Abbiamo già detto chiaramente che stiamo pronti, pronti il notaio per poter raccogliere le firme per arrivare a 17% e far cadere l'amministrazione. Ci aspettiamo che qualcuno da parte dei colleghi dell'opposizione, e il problema è che ci vuole anche qualcuno della maggioranza, che predica bene, cioè si lamenta, ma poi l'atto pratico non è conseguenziale. Dico con estrema franchezza che ad oggi ancora da parte degli altri non ricevo nessuna telefonata. Visita istituzionale questa mattina all'Agbe di Pescara, a visitare la struttura dell'associazione delle famiglie dei bambini impegnati nelle lotte, nelle terapie onco-ematologiche all'ospedale Santo Spirito, c'erano il parlamentare del PD Antonio Castricone e l'assessore regionale Silvio Paolucci. Associazioni sempre più impegnate nel sostegno della sanità pubblica, sempre più spesso a coadiuvare una richiesta crescente di cure e servizi, ci sono organizzazioni no profit che scendono in campo per dare il proprio contributo al miglioramento dell'esperienza terapica. A Pescara l'Agbe d'anni garantisce assistenza ai piccoli pazienti affetti dalle eucemie e ai loro nuclei familiari. Questa mattina a visitare la struttura che ospita da sette anni le famiglie richiedenti, ci sono due rappresentanti delle istituzioni abruzzesi, Antonio Castricone, parlamentare del PD e l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. È un'offerta che sta a guardare anche la protezione del nucleo familiare, dei parenti, dei genitori, degli altri figli e che comunque permette, tra l'altro qui a qualche metro a poca distanza dall'ospedale, di avere un supporto indispensabile quando purtroppo le famiglie si trovano in queste condizioni. Nel mondo del volontariato, dell'associazionismo, anche quello del sociale collegandolo a quello che è un percorso di assistenza è addirittura fondamentale. Nel futuro renderà peraltro più di qualità il sistema e allo stesso tempo più sostenibile. E peraltro la qualità degli investimenti che la sanità, anche regionale, sta portando sul percorso oncologico credo sia significativo e che debba essere ancora di più rilevante nel proseguo dei prossimi mesi. Un impegno costante da parte dell'associazione dei genitori dei bambini affetti da emopatie che prosegue la sua marcia annunciando nuovi spazi dedicati all'accoglienza delle famiglie che si trovano ad affrontare questo delicato percorso, un numero che cresce di anno in anno. Noi abbiamo da poco acquistato un'altra struttura, tra l'altro adecente a Casa 30 Ore e contiamo nel corso del prossimo anno, nel 2016, di ristrutturare e cercare di portare a termine almeno altri due appartamenti. La band Terramana Sotto i Cieli di Rino, da sempre vicina alle categorie sociali più deboli, ha offerto un momento di musica ai detenuti della casa circondariale di Castrogno. Un momento musicale sulle note delle canzoni di Rino Gaetano è stato vissuto sabato pomeriggio dai detenuti del carcere Terramano di Castrogno, ai quali la band locale Sotto i Cieli di Rino ha offerto un concerto con musiche e testi del cantatore italiano, esibendosi nella sala teatro dell'Istituto Penitenziario. Un concerto nato da un'iniziativa della band Terramana, da sempre vicina alle categorie sociali più deboli, promossa per far sentire ai detenuti la vicinanza della comunità, così come spiegato dal leader Dante Sbraccia. È stata una nostra iniziativa per poter stare vicino a queste persone, per renderli un po' un momento di serenità e per far conoscere Rino Gaetano anche in questo ambiente. E la scelta di portare in carcere le canzoni di Rino Gaetano non è stata casuale, Rino ha descritto la società del suo tempo in modo quasi pirandelliano, è stato uno dei pochi ad avere il coraggio di parlare e dire cose anche pericolose per il suo tempo. Il Rino Gaetano invece era uno che aveva coraggio, è forse per questo che è scomparso presto, perché poi ha avuto crisi esistenziali, si è lasciato un po' andare, quindi noi sappiamo cosa vuol dire avere problemi esistenziali, molti non lo sanno, quindi facciamo un applauso a Rino Gaetano. Eventi che il direttore del carcere Teramano accoglie sempre senza indugi. Il detenuto viene messo in una condizione di trascorrere una parte della sua giornata in serenità, in completa evasione, magari rievocando come questo gruppo sa fare che è sotto i cieli di Rino, che è un gruppo Teramano che ha proposto gratuitamente di prestare la propria attenzione a carcere con canzoni che rievocano questo grande cantatore e quindi i denuti non possono che rimanere entusiasti dell'iniziativa trattamentale che noi abbiamo offerto loro. E ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo con la Serie B nella settimana che porterà al derby tra Pescara e Virtus Lanciano di domenica prossima alle 17.30. Da oggi alle ore 10 sono aperte le vendite dei tagliandi per i tifosi del Pescara presso tutte le ricevitorie Ticket One presso i due store ufficiali, uno di Via Regina Margherita l'altro presso il centro commerciale Porto Allegro di Monte Silvano. Intanto sul fronte squadra, lo sapete, sabato scorso si è infortunato il centrocampista Rolando Mandragora, per lui stagione finita, frattura del quinto metatarso del piede destro. Oggi l'operazione alla clinica Fornaca, tutto ok per lui ma tempi di recupero entro i due mesi e mezzo. Ascoltiamo il responsabile dell'area medica della Pescara Calcio, il professor Salini. Professor Salini, analizziamo dunque la situazione nell'infermeria bianco-azzura, partiamo da Mandragora, l'ultimo infortunato, ci sono delle novità perché stamane è già stato sottoposto all'intervento chirurgico. Sì, Rolando è stato sottoposto stamane alla clinica Fornaca a Torino dal professor Quaglia, mio collega dell'Università di Torino, ci eravamo sentiti già sabato dopo la partita con il dottor Toynkone, responsabile sanitario della Juventus, essendo il giocatore di proprietà della Juventus si è preferito farlo trattare a Torino. Un infortunio che sembra banale, molti si chiedono come è stato possibile. Il ragazzo riferisce di essere risceso da un colpo di testa, aver sentito una fitta improvvisa sulla porzione laterale della caviglia, ricordiamoci dell'anno scorso di Gianluca Caprari che purtroppo ha avuto lo stesso infortunio e anche lì abbiamo provveduto a operarlo mettendo una vite, risolvendo il problema nell'arco di due mesi, due mesi e mezzo sarà nuovamente disponibile. Quindi due mesi e mezzo il tempo di recupero per Mandragora? Io penso sia pronto per il ritiro estivo con la Juventus, che in realtà il ragazzo all'ospedale di Lavagna era molto preoccupato per questo, perché sicuramente per lui rappresenta un'occasione unica. Chiaramente sono in vendita anche i tagliandi per i tifosi della Virtus Lanciano al prezzo di 10,50 euro, tariffa unica, rete di vendita sempre Ticket One. La Pescara Calcio peraltro ha comunicato che al momento è stato abilitato solo il settore ospiti con capienza di 733 posti. In settimana dopo la riunione del GOS si valuterà la destinazione eventuale dell'intera curva sud ai sostenitori ospiti, tagliandi per i tifosi del Lanciano che sono vendibili solo ai possessori della tessera del tifoso. In casa Virtus c'è amarezza per la sconfitta con l'Avellino, espulso a Menta che salterà il derby da valutare anche le condizioni dell'attaccante Ferrari che ha accusato un risentimento muscolare proprio nella gara con l'Avellino. Ascoltiamo a tal proposito il tecnico Maragliulo che parla della sconfitta di due giorni fa. Amarezza infinita perché avrei voluto tanto che questa partita si giocasse, l'ho già detto, ad armi pari e non mi riferisco chiaramente al fatto dell'espulsione. Purtroppo ci siamo giocati la partita più importante del nostro campionato in inferiorità numerica e per noi è stato difficilissimo e nonostante tutto non posso fare altro che lodare i ragazzi perché se da una parte ci sono stati degli errori gravi che ci hanno condizionato e fatto giocare in questa maniera, dall'altra hanno dato per l'ennesima volta il cuore e tutto quello che avevano dentro, tanto che nel secondo tempo abbiamo anche creato un paio di situazioni per poter pareggiare e probabilmente non avremmo rubato niente se l'avessimo fatto. Quello che mi preme in questo momento è ritornare immediatamente a fare allenamento e a far capire ai miei ragazzi che non devono mollare assolutamente niente perché le speranze di salvarci sono ancora tutte là, dipendono da noi e purtroppo dobbiamo stare più attenti e giocarci nella maniera giusta. E ora parliamo di Lega Pro, intanto con il nuovo ribaltone che si è verificato all'Aquila dove è tornato sulla panchina rosso-blu il tecnico Carlo Perrone, ci sono anche i crismi dell'ufficialità, poco fa è giunto in redazione il comunicato stampa diramato dall'Aquila Calcio che andiamo a leggere, i nostri tifosi sono un patrimonio irrinunciabile, un sostegno determinante per le sfide che ci attendono. A loro chiediamo di rimandare a fine campionato le polemiche e di soffrire insieme a noi per avere successo in queste ultime partite. L'Aquila Calcio, animata da questo spirito, ha richiamato il tecnico Carlo Perrone che si è reso subito disponibile a riprendere in mano la squadra per portarla alla vittoria. La società ha anche nominato come consulente per la gestione della crisi Carlo Susini al quale saranno demandati tutti i compiti di rappresentanza della società nei confronti della squadra, dei tifosi e degli organi di stampa. Nessun altro provvedimento è stato discusso al mister Giacomo Modica, vanno i ringraziamenti della società per l'impegno e la tenacia di cui è stato maestro apprezzato. Certi di aver risposto prontamente nel migliore dei modi alle aspettative di tutti gli appassionati diamo il bentornato e l'imbocca al lupo al tecnico Carlo Perrone. Questo dunque il testo del comunicato, aggiungiamo noi che Carlo Susini dell'Aquila è stato anche allenatore nelle stagioni in particolare in eccellenza. E ora parliamo di Teramo e andiamo a vedere la conferenza stampa del tecnico Biancorosso Vincenzo Vivarini dopo la partita persa ieri con la SPAL per 2-0. Purtroppo quest'anno è così, abbiamo fatto anche una prestazione più che accettabile, con tante occasioni da gol che non abbiamo sfruttato, abbiamo preso un palo, dei tiri che potevamo sicuramente fare meglio, partita che poi non abbiamo sofferto più di tanto, ci è voluta la solita disattenzione per avvelenarci anche questa giornata. Io mi metto nella testa di Scipioni in questo momento qua, non è facile superare questi momenti, queste situazioni, per quanto riguarda il discorso mio personale è un discorso che come ho detto prima, non dipende da me, io sto ascoltando, sto vedendo tutto ciò che mi accade intorno e quindi di conseguenza è prematuro per tutto. Teramo secondo me è noioso che lo ripeto, però è un pubblico particolare perché è un pubblico che ti critica quando le cose non vanno come devono andare e però poi legge bene tutte le situazioni che girano intorno alla squadra. Hanno veramente a cuore la squadra, al di là dei giocatori che giocano, degli allenatori che sedono in panchina, loro hanno proprio la passione per il Teramo e di conseguenza a me mi hanno fatto piacere gli applausi, ma mi hanno fatto piacere sicuramente in questi tre anni, diciamo anche il loro comportamento che hanno avuto nei miei confronti, compreso le critiche che quando li dovevo prendere me li sono presi. Ed ora parliamo di Serie D e degli ultimi verdetti emessi già con la penultima giornata di campionato, verdetti chiaramente in chiave abruzzese con l'esclusione dai play-off del San Nicolò e con la salvezza matematica della Vezzano nonostante la sconfitta di ieri a Iesi. L'Avezzano resta in Serie D, il verdetto arriva la penultima giornata e nonostante la sconfitta partita dalla squadra marsicana in casa della Iesina. Ad agevolare la salvezza della Vezzano è la partita dell'ultima di campionato tra Castelfidardo e Folgore Veregra, uno scontro diretto che consentirà all'undici di Lucarelli o di restare fuori dalla zona play-out o, pur entrandovi, di avere più di otto punti dalla terza ultima e quindi una distanza che esclude la disputa del play-out. Una salvezza preziosa anche se, per come è arrivata, non ha particolarmente gratificato i tifosi biancoverdi a corsi in trasferta che al fischio finale hanno espresso del disappunto. Ci sono spenti ad Agnone i propositi di quinto posto per il San Nicolò, la squadra di Epifani perde di misura e vanno in fumo anche le speranze più marginali. Di Conte, su calcio di rigore, la rete partita. Al Civitelli è andata in scena una partita intensa, ricca di occasioni, tra due squadre che avevano bisogno dei tre punti. Se li prende l'undici Morisano, che così centra la salvezza dopo una grande rincorsa. La firma di tutto questo è del tecnico Pino Di Meo. Il Chieti si toglie invece la soddisfazione di espugnare il Riviera delle Palme e dunque di infliggere la prima sconfitta stagionale casalinga alla San Benedettese, vincitrice del campionato. Vero che la squadra di Palladini ha fatto ricorso a diverse seconde linee, ma resta il successo di prestigio per un Chieti che già lo scorso anno era stato capace di espugnare lo stesso stadio. Massimo e Dos Santos nel finale di partita hanno ribaltato la rete di Vallocchia. Pur retrocessa la Miterlina si congeda dai propri tifosi con una prestazione dignitosa contro il Castelfidardo, anche se non sufficiente ad evitare la sconfitta. Assegno Balloni e Trellini per i marchigiani, D'Alessandris per la squadra scoppitana. Stesso discorso per il Giulianova, che Alfadini pur giocando per buona parte dell'incontro in dieci uomini impone lo 0-0 alla Vispesaro. Anche i marchigiani però possono festeggiare la salvezza. Finisce qui questa terza edizione del TG6, TG che vi aspetta domani con la prima edizione quella canonica delle ore 14. Grazie per l'attenzione, buonanotte.